Amici di Marcosbox, benvenuti o bentornati in questa nuova recensione per il canale YouTube del blog di Marcosbox. Quest'oggi andremo a vedere un prodotto, un powerbank della Anker, dotato di tecnologia MagSafe. Questo powerbank, il modello è l'Anker 622, anzi il nome in coge ve lo faccio vedere qui, dovrebbe essere scritto qui. Il modello A1614 per la precisione. Come vi dicevo è un powerbank sottile e con alta capacità che è compatibile con la tecnologia MagSafe dei dispositivi Apple fino ad Airphone 15, praticamente l'ultimo modello attualmente rilasciato da Apple. Ma andiamo a vedere un po' come funziona questo caricabatterie, che cosa c'è nella confezione. Quali sono le caratteristiche che mi hanno fatto propendere per l'acquisto di questo dispositivo. Qui troviamo la solita card con il manualetto di istruzione, che poi praticamente non c'è niente, c'è scritto soltanto alcuni consigli per l'utilizzo. E possiamo già notare una delle prime caratteristiche di questo caricabatterie wireless, che ha una carica in modalità wireless a 7,5 Watt. In totale carica tramite cavo a 12 Watt, quindi non è super rapido, però ci consente comunque di ricaricare il nostro dispositivo in tutta tranquillità. E come vedremo, grazie al fatto che è un dispositivo dotato di tecnologia MagSafe, ci consente di utilizzarlo e di ricaricarlo durante l'utilizzo. Quindi è molto comodo sotto questo punto di vista. Mettiamo da parte la card. Qui in confezione troviamo il cavo USB-C di circa 60 cm, se non ricordo male, che serve per poterlo ricaricare, ma anche per poter caricare il nostro smartphone direttamente con il cavetto. Qualora non volessimo utilizzare la carica wireless, e qui troviamo il nostro power bank, che adesso mettiamo da parte della confezione. Come potete vedere, è molto sottile, ha espesso circa 12,8 mm secondo la scheda tecnica, ha un peso di 142 grammi, quindi si sente un po' questo mattoncino, ed ha una capacità di 5000 mAh, quindi ci consente di fare diversi utilizzi, diverse ricariche del nostro smartphone. Qui possiamo vedere in rilievo il disegnino, che sta a indicare che è compatibile con il MagSafe di Apple, e qui vediamo sugli attirati non c'è niente, tutto pulito. Qui troviamo il pulsante di accensione, che serve anche, premuto una volta per farci vedere il livello di carica del power bank, e qui troviamo la porta di ricarica, sia per caricare il power bank, sia per caricare lo smartphone. Qual è la cosa carina di questo power bank, che mi ha fatto propendere, dicevo, per acquisto di questo prodotto, è il fatto che ha questo meccanismo, che consente di mettere il nostro telefonino in ricarica, in maniera verticale, e quindi di utilizzarlo anche come supporto. E vi faccio vedere subito come funziona. Prendiamo l'iPhone e andiamo a connettere. Ecco qua, una volta avvicinato, non fate caso, doveste vedere dei gampeggi qui, tutti strani, sono dovuti al sensore dell'iPhone per il riconoscimento facciale, non so come fanno gli atti recensori, non farvi vedere nelle recensioni, ma mi documenterò anche su questo. Una volta collegato, parte subito e va subito in ricarica, come potete vedere. Il magneto è molto potente, io faccio davvero fatica a staccarlo, e consente di mettere il dispositivo anche in questa modalità. Come potete vedere, regge in maniera perfetta, io sto cercando di fare effetto terremoto, ma non si stacca. E lo potete anche utilizzare per ricaricarlo, metterlo sulla scrivania, o che magari se volete lasciare lo smartphone sulla scrivania, e ricaricarlo, e al tempo stesso, che ne so, godervi dell'animazione, quella presente sui dispositivi Apple, che è in modalità ricarica, in orizzontale, vi dà l'orologio e il calendario. Ed è davvero un prodotto che mi sta piacendo molto. Lo sto utilizzando da qualche giorno. Ho già fatto una ricarica completa del Power Bank, appena arrivato stava al 50% circa. L'ho utilizzato in questi giorni, per vedere un po' come funziona, ma soprattutto per capire se scalda oppure no. E almeno in questi primi giorni di primavera, qui a Foggia fa molto caldo, ho notato un leggero calore, tipico della tecnologia di ricarica, guarda, si genera, si dissipa calore con questo tipo di tecnologia di ricarica, però non è un calore eccessivo. Quindi per adesso sta tenendo a botta. Ovviamente mi riservo il diritto di smentirmi durante la stagione estiva, perché come sapete io vivo a Foggia, e a Foggia fa un caldo che è atroce durante l'estate, e quindi voglio capire successivamente, aggiornerò successivamente magari mettendo un commento qui sotto al video, aggiornerò la recensione, dicendovi come si comporta questo Power Bank, MagSafe, Warius, durante la stagione estiva con le temperature rilevate. Vediamo se scalda, se scalda molto. E un'altra caratteristica di cui mi sono dimenticato di dirvi prima, è che questo Power Bank è anche compatibile, ovviamente è compatibile, anzi, con le custodie che hanno la tecnologia MagSafe. In questo caso io sto utilizzando una cover della Spigen, che è progettata proprio con il meccanismo MagSafe, e quindi il funzionamento è perfetto. Ovviamente vi faccio vedere anche, vabbè, giusto, ma ovviamente non serve perché, se funziona con la cover, figuriamoci se non funziona, direttamente con l'iPhone nudo e crudo, però, lo sto mettendo al contrario, anche in questo caso, è lo stesso livello di forza del Magnete, non ci sono problemi, anche senza cover. Sono soddisfatto da questo prodotto, ve lo consiglio, vi consiglio l'acquisto, il prezzo è anche basso, ogni tanto si trova in sconto, quindi potete sfruttare in sconto, io stesso l'ho pagato, con uno sconto di circa 5 euro, sul prezzo di listino, e lo sconto lo potete trovare anche, sul canale Telegram di Marcosbox, dedicato alle offerte, quindi seguitemi sul canale Telegram, in modo tale da avere anche voi, questo prodotto in sconto, non appena viene rimesso in sconto, nei prossimi giorni, va spessissimo in sconto, questo tipo di prodotto, quindi seguite il canale, fatemi sapere, se vi può interessare, se avete acquistato anche voi, questo tipo di power bank, wireless della Anker, quindi lo potete utilizzare anche così, vedete, lo mettete così il telefonino, e funziona lo stesso. Allora io ho questa cosa qua, e questa è la genialata che mi piace il più, lo mettete, e vi si regge il telefonino. Geniale, semplice, picco, compratelo, come si suol dire. Alla prossima non recensione, per il canale di Marcosbox. Ciao ciao, anzi, lunga vita e prosperità.